Buongiorno amici appassionati bianconeri e non di TV12, ben trovati con il primo appuntamento della nostra informazione, la rassegna stampa in questo martedì 18 aprile, un martedì assolutamente ricco di eventi perché è il primo giorno del nuovo sindaco di Udine che sarà Alberto Felice Detoni che ieri ha sconfitto Pietro Fontanini, ma si parlerà anche tanto di sport perché oggi si gioca Napoli-Milan e non solo, ma partiamo dall'Ansa con la guerra, questa è la prima notizia abbattuta dal sito dell'Ansa, Putin in Ucraina visita le truppe a Kherson e Lugansk, il presidente russo Putin è in Ucraina dove ha visitato il quartier generale delle truppe, dove ha ascoltato il rapporto del comandante delle forze aviotrasportate, questa è la visita che sicuramente tiene banco come notizia del giorno, ma c'è anche la presa di posizione di Mattarella che sprona l'Unione Europea, sui migranti abbiamo norme preistoriche, il presidente della Repubblica in visita a Varsavia, al capo dello Stato polacco Duda, sostegno dall'Italia all'Ucraina finché sarà necessario anche la sua presa di posizione riguardo al conflitto tra la Russia e l'Ucraina con l'immagine proprio della visita di Mattarella, ecco invece l'ampio ventaglio di prime pagine che inizia proprio con le parole di Mattarella, migranti l'Unione Europea ora cambia, appello del Quirinale per una nuova politica d'asilo in caso del video spot sul barcone prima del naufragio, Mattarella vanno superate queste norme preistoriche mentre ci sono ancora delle tensioni. Sul decreto Salone del Mobile, oggi il via con la Premier 2000, espositori da 37 paesi, arte, scienza e sostenibilità, a Milano ci sarà il nuovo molto del design, qui vediamo appunto proprio una delle opere che si potranno visitare e vedere al Salone del Mobile, un evento sempre comunque importante nell'anno proprio della cultura e non solo italiana. Ancora Mattarella, siamo sulla Repubblica che sui migranti dice a chiare lettere, lui cambi le regole, il Presidente in Polonia definisce preistoriche le norme sull'asilo e chiede all'Europa di modificare il Trattato di Dublino, i paesi del nord sono contrari, non se ne parla prima dell'estate 2024. Battuta intanto la mozione del PPE sulla solidarietà a Roma, nel frattempo i sindaci vanno contro il governo, Gori vuole creare una massa di irregolari, queste le principali tematiche che pone sul tavolo delle questioni e poi nella fotonotizia parla dell'oppositore Karamurza condannato a 25 anni, Mosca chiude l'istituto Sakharov che era l'ultimo baluardo dei dissidenti, come si vede anche dalla foto sempre molto eloquente scelta dalla Repubblica. Il manifesto, ci spostiamo invece nel nostro percorso che parla proprio di protezione incivile, l'attacco alla protezione speciale si sposta nell'aula del Senato, la russa è un tantam ideologico che ci danneggia, la Lega è pronta a ripresentare molti degli emendamenti per un ulteriore giro di vite, intanto Mattarella come abbiamo sentito sferza l'Europa sui migranti e a Palazzo Grigi apprezza la presa di posizione di Mattarella che ha detto la sua quando era in visita in Polonia, sorpresa Udine, c'è un campo largo, il sindaco Detoni che diventa appunto sindaco, il civico sostenuto da PD, AVS e Terzo Polo e appoggiato dai 5 Stelle al ballottaggio, questo appunto quello che riguarda una piccola resurrezione della sinistra, dice il manifesto, un errore illudersi il commento di Andrea Carugati, ma è un segnale di vita quello che arriva proprio dal nord-est da qui, da Udine. Il foglio che si occupa anche proprio del bull factor del governo, che differenza c'è tra gli slogan e la realtà, si chiede il foglio, protezione umanitaria è molto altro, l'approccio da bulli sui migranti può aggravare i problemi dell'Italia e basti ascoltare Mattarella, sono numeri utili anche per smascherare le balle, anche qui una presa di posizione piuttosto netta. Quella del foglio, ancora continuiamo il nostro percorso nelle prime pagine nazionali. La verità che lancia, o meglio riprende un allarme che arriva dal Regno Unito, tra i vaccinati boom di morti per cause diverse dal Covid. I dati dell'Istat britannico mostrano che tra gli inoculati calano i decessi da coronavirus, ma aumentano quelli per altri motivi. Non c'è una correlazione dimostrata specifica, però i picchi corrispondono con le prime dosi, questo è l'approfondimento scelto da Alessandro Rico, mentre c'è anche poi l'operazione Verità che dice adesso seguite la vera scienza e fateci vedere anche i numeri italiani, ricordiamo questo è un report, sono dati Istat che arrivano dal Regno Unito. Attenzione invece alla fotonotizia, perché si parla di Zelensky per cui ora scoppia pure la battaglia del grano, questo per quanto riguarda sempre le tensioni e i conflitti tra Russia e Ucraina, che non sono solo relativi proprio alla guerra in senso stretto. Crollano le accuse sulla strage di Cutro, dice Libero, i video scaggionano il governo, gli scafisti a bordo giravano filmini provozionali per la traversata, i testimoni non c'era il meteo, naufragio dovuto a manovre errate, questo anche la testimonianza che arriva da chi per fortuna è riuscito a sopravvivere alla strage di Cutro. Continuiamo nel nostro percorso all'interno del giornale selezionato con il maestrino bizzarri Pestum e in Grecia la figuraccia da terza elementare, viene messo un po' alla berlina per il grave errore geografico commesso da uno dei noti comici italiani. Il giornale, che invece continua sulla tematica, quella più calda, quella del caos per l'immigrazione, protezione speciale buco stellare. Il provvedimento voluto da Dem 5 Stelle ha aperto una voragine nei conti. in 15 mesi è già costato 200 milioni, per questo si parla di buco stellare, mentre arriva l'assist di Mattarella nell'Unione Europea sotto questo punto di vista ci sono ancora norme preistoriche da superare, questo ha detto Mattarella. Si parla anche qui del Salone del Mobile che viene rinominato l'evento dei record e tra l'altro al Salone del Mobile ci sono anche i russi. Niente delegazione, la sorpresa, ma al Salone del Mobile non mancano i buyer in arrivo dalla Russia, quindi non ci sono venditori russi, ma soltanto compratori. Questo ci ricorda il giornale. Un tuffo anche nella nostra zona d'Italia, nel Gazzettino, dove viene richiamato proprio il virgolettato di Mattarella, migranti, regole preistoriche, l'affondo di Mattarella. È un problema che riguarda l'Unione Europea, nessuno Stato può affrontarlo da solo, questo ha detto Mattarella. mentre nella fotonotizia c'è spazio doveroso al Ribaltone, Ribaltone De Toni, Udine svolta a sinistra, le alleanze sono state determinanti nella vittoria di Alberto Felice De Toni con il sindaco uscente Fontanini che perde 3.000 voti rispetto al primo turno. Appropondiremo le tematiche e tutte le parole dei protagonisti nel corso della nostra rassegna stampa. vi riproponiamo il breve estratto della nostra lunga maratona ieri condotta da Francesco Pezzella e Alberto Terasso con inviati da Vizzanilato e da Angela Caino e riviviamo proprio i secondi in cui è stata ufficializzata la vittoria di De Toni nella sede del partito, insomma, della campagna elettorale del nuovo sindaco. 3, 7, De Toni, 2, 3, 2. 3, 7, De Toni, 3, 2, 1. Il grande sorriso dell'ex rettore dell'Università di Udine, adesso sindaco cui ovviamente facciamo il video in bocca al lupo per questi 5 anni di mandato che gli prospettano davanti e ovviamente poi sentiremo anche le parole dello sconfitto Fontanini che adesso dovrà guidare l'opposizione. Chiudiamo però, torniamo a parlare di stampa nazionale con la stampa appunto, scusate il gioco di parole, con le parole di Mattarella che arriveranno dopo nella fotonotizia, si parla dei migranti che salvano le pensioni, cambiare tridico alla stampa ha detto cambiare la legge Fornero, peggiore i conti, salario minimo è una cosa indispensabile, mentre abbiamo proprio nella fotonotizia come dicevamo le due parole che hanno più colpito, Europa preistorica ha detto Mattarella in Polonia per quanto riguarda le regole sugli sbarchi, questo è il richiamo che è avvenuto sul palco nel momento del discorso di Mattarella. Ancora il fatto quotidiano che invece va a bacchettare il governo, che ridà i missili al regime degli Emirati via il divieto di Conte tolto da Draghi sulle armi leggere, dopo il viaggio ad Abu Dhabi, bombe razzi e complici dei sauditi nei massacri in Yemen, Movimento 5 Stelle, stavolta l'Italia sta con l'aggressore, questo è il punto di vista del fatto quotidiano, ci siamo appena andati a leggere. L'identità di Tommaso Cerno che parla di bonus mafia, dal PNRR alle Olimpia di Milano-Cortina, le mani delle cosche sui fondi pubblici, questo è l'approfondimento, l'inchiesta dell'identità, il crimine, gli affari e la politica è il primo approfondimento di Giovanni Vasso, gli appalti e la rete dell'usura, cura invece di Cristina Flaminio, questo poi la missione di Giorgia L'Africana, il viaggio della Premier nel corno d'Africa, amici non predoni e l'Italia si candida al ruolo di portavoce dell'Europa, nel consueto editoriale di Tommaso Cerno, professione gattopardo, il gattopardo della politica si è risvegliato, anzi è diventato un mestiere, ormai si fa per professione, tutto cambia perché nulla cambi, un Premier donna ma una destra che fatica a voltare pagina, un capodonna della sinistra ma sotto le stesse facce degli ultimi 20 anni, questa è la solita frecciata quotidiana di Tommaso Cerno, chiudiamo con un po' di economia, il sole 24 ore, ecco qua spesa record per gli interessi sul debito, 1398 euro a testa, il doppio della media dell'Unione Europea, che non può di certo far felice l'Italia, e anche il sole 24 ore si occupa dell'apertura del Salone del Mobile, a Milano ci saranno la bellezza di 1200 eventi per questo evento, come al solito, complessivo, che ne racchiude tantissimi altri, il Salone del Mobile, come al solito molto molto atteso, lasciamo le prime pagine nazionali per andare sul messaggero veneto di Udine, che ovviamente apre con lo strappo di Detoni, che si prende il comune, l'ex rettore eletto sindaco, il candidato di centro-sinistra ha ottenuto 18.576 voti, 2.003 in più dell'uscente Fontanini, che vediamo nella foto con il 47,15%, nella foto invece l'esultante Detoni con il 52,85, anche se nell'approfondimento si parla di una realtà che evidentemente rimane divisa in due, poi velocemente le reazioni o le specifiche, il centro-sinistra festeggia dopo 5 anni all'opposizione, sanità, rifiuti e quartiere, queste saranno le nostre priorità, ha detto Detoni, mi dispiace non aver saputo comunicare le cose fatte, ha detto Fontanini, Palazzo d'Aronco, ecco come sarà composto il nuovo consiglio comunale, c'è poi anche spazio, ricordo a 50 anni dalla morte di Tiziano Tessitori, l'idea rivoluzionaria della autonomia, ma ripartiamo da questo festante Alberto Detoni, che come dicevamo prima, nella grande maratona fatta ieri pomeriggio su TV12, abbiamo intercettato dopo il fresco annuncio della vittoria, sentiamolo al microfono di Davide Zagliato. Sono ovviamente molto lusingato di questo risultato, è stato un risultato come avete visto alla fine di misura, però abbastanza chiaro, mi ha telefonato Fontanini, mi ha fatto i complimenti, io l'ho ringraziato per la correttezza della campagna elettorale, gli ho detto che cercherò di creare in consiglio comunale un clima di collaborazione perché adesso abbiamo bisogno di fare il bene della città e di tutto il Friuli e lui me l'ha assicurato e penso che sia l'epilogo più bello di questa campagna elettorale, che è stata vera, è stata dialettica, ma è stata sempre corretta, abbiamo sempre bisogno di dare l'esempio alle nuove generazioni e anche a chi è appassionato di politica. Abbiamo una grande opportunità di ripartire con dei progetti di sviluppo della città. A chi dedica la vittoria? Beh, la dedico alla città e la dedico anche alla mia famiglia che abbiamo visto poco in questi giorni, in queste settimane, e però voglio dedicarla appunto alla capitale del Friuli e penso che adesso chiederò, appena abbiamo istituito la giunta, un incontro anche con Federica, credo che le istituzioni abbiano il dovere di collaborare per il bene del territorio. Quindi la lezione è questa, che se mettiamo davanti i problemi effettivi e se ci spogliamo di ideologie o vecchi conflitti, possiamo costruire un futuro di grande unità. Cento giorni sono pochi. Abbiamo detto durante la campagna che immaginiamo di riportare appena possibile gli ambulatori a un'apertura di meno di due ore al giorno per tutti i giorni, abbiamo detto di aumentare i cestini dei rifiuti per la differenziata, abbiamo detto di portare nei quartieri il cinema e il teatro all'aperto. Questo in cento giorni, ma le cose più importanti le faremo dopo. In che luogo o dove ha capito che stava cambiando il vento? Ma le cose si sono già capite al primo turno perché Federica faceva il 55% in città e Fontanini faceva il 46%, erano 9 punti di distanza e quindi c'erano le condizioni. Però il punto di svolta è stata l'alleanza con Marchiola e le sue tre liste. I miei amici mi chiamano Happy Albert, adesso vorrei essere un Happy Syndic. Richiamo ovviamente simpaticamente al nome Felice, al secondo nome Alberto Felice De Toni, che è il candidato del centro-sinistra, nuovo sindaco della città. Siamo nelle pagine interne della cronacaudinese, del messaggero Veneto, dove ci sono tante foto di festa, abbiamo visto prima insomma con Marchiol e Venanzi tra i principali protagonisti di questa vittoria, la segreteria FVG del PD. Questo progetto guarda alla regione, sono tutte le reazioni a questa vittoria. Anche una fotografia di chi è Padovano, classe 1955, nato a Curtarolo per l'esattezza. E appunto con la moglie Daniela, padre di due figli adottivi, Gregorio di 30 anni e Sebastiano di 27. Nella pagina successiva, tra l'altro è molto bella, la foto dell'abbraccio e del bacio proprio con la moglie Daniela. Il commento, un altro docente, sindaco di Udine, Fontanini, nel frattempo perde per la prima volta con i segnali che si erano avvisati già dalla prima tornata, come ha riconosciuto proprio lo stesso De Toni nella nostra intervista. La festa scoppia già dopo un'ora, come al solito ai ballottaggi lo scrutinio è molto snello. Alle 15.53 il vantaggio è già incolmabile, la gioia nella sede elettorale dell'ex rettore, ve l'abbiamo fatta vedere poco fa con le nostre telecamere, sempre in prima linea. Alessandro Venanzi ha parlato di un campo largo, è stato un lavoro di moltissimi mesi e vince Udine. Questa è la sua dichiarazione, ma anche Federico Pirone che parla di profilo civico, ci abbiamo sempre creduto dimostrando che la candidatura civica potesse interpretare al meglio le esigenze della città. Tutti protagonisti che abbiamo avuto ospiti nel nostro studio. Cristian Sergo parla di nuovo futuro, Udine sceglie il cambiamento, guarda il futuro e ribalta un panorama che fa iniziare un pensiero di svolta anche per la regione che è in mano per ora saldamente al centro-destra con Fedriga. Ancora il programma elettorale ribadito da De Toni, che sanità, rifiuti e quartieri saranno le tre priorità. De Toni sarà un happy syndic, Marchiol, il ringraziamento di De Toni è stato decisivo per questa vittoria. nei primi cento giorni, cinema estivo e orari ampliati negli ambulatori. Udine isolata è un concetto errato, chiederemo subito un incontro alla giunta regionale con le categorie. Queste sono anche un po' le priorità di Alberto Felice. De Toni c'è poi invece la nostra squadra che ha perso la finale, Michelini il campionato resta ottimo, Fedriga augura buon lavoro a De Toni. L'illusione del quartiere di Cusignacco dove Fontanini era avanti in tutte e quattro le sezioni allestite, ha parlato croatto, i fratelli d'Italia, più che le persone i programmi, ha vinto chi è riuscito a portare la gente a votare al secondo turno. Questo per quanto riguarda le reazioni dal centrodestra. Luca Vidoni, nessuno sconto, adesso non ci resta che prendere atto del risultato. Francesca Laudicina ha parlato di un'opposizione che sarà tenace, rispettiamo la volontà popolare, ma i cittadini hanno scelto ed è giusto rispettare il voto, faremo un'opposizione tenace. Loris Michelini parla di avere la coscienza a posto, abbiamo comunicato ciò che abbiamo fatto, cioè tantissime cose, ma i cittadini hanno voluto fare un'altra scelta. Questa è stata un po' una risposta anche a una piccola bacchettata data da Pietro Fontanini a se stesso e alla sua squadra di non aver saputo comunicare perfettamente cosa è stato fatto nella scorsa legislatura, nella scorsa mandato da sindaco di Pietro Fontanini, lo ha intercettato per noi ieri subito dopo la sconfitta. Angela Caino, sentiamo le sue parole. La prima reazione è che mancano 3.000 voti in appello, in pratica molte persone non sono tornate a votare al secondo turno e questo ha condizionato il voto, ha condizionato il risultato. Adesso ci aspettano anni di opposizione, io spero che siccome ho sentito Dettoni ha detto che vuole collaborare, che non stravolga il bilancio del 2023, che è un bilancio con tante opere pubbliche finanziate, 63 milioni. Io li consegno a un comune con i conti a posto e spero che almeno l'80% del programma che noi abbiamo realizzato per quest'anno venga mantenuto. Questo è il mio desiderio, il mio auspicio. Poi vedremo. Noi senz'altro se ci sarà disponibilità nei confronti di quello che abbiamo programmato daremo un voto favorevole. A posteriori il sindaco giocherebbe qualche carta in modo diverso in questi ultimi 15 giorni di ballottaggio? Ma la carta sarebbero i mass media, ma siccome sono davanti ai mass media è difficile parlare di voi perché chiaramente io do una certa colpa ai mass media che non hanno seguito questo comune, che hanno evidenziato solo problemi e non le cose belle che abbiamo fatto per questa città. Però il fatto di avere un presidente di centrodestra, un presidente della Lega, non è servito a trascinare anche l'elettorato udinese. No, no, non è servito perché non sono tornati a votare e questo purtroppo è qualche volta la pigrizia di quelli di centrodestra che pensano che basti una votazione sola, invece in queste regole per le comunali ci vogliono due votazioni. C'è anche chi ha detto che Fontanini ha parlato troppo di Friuli e poco di Udine. Ma insomma, io ho parlato di Udine, ho realizzato le cose a Udine, di Friuli forse ho parlato troppo poco perché non ho detto solo che Udine è la capitale del Friuli che fa, dà riferimento a un territorio molto importante, ma ho parlato soprattutto delle tantissime opere fatte in questa città, erano anni che non si facevano opere così importanti e così anche impattanti sotto certi aspetti. Un'autocritica c'è, rispetto ai cinque anni del suo mandato o anche rispetto alla stessa campagna elettorale, bronchita a parte? No, rammarico, io non ne vedo, nel senso che ho fatto tante cose per la città, vedo una città molto rinnovata, una città molto viva, speravo un premio, un riconoscimento da parte dei cittadini udinesi di questo risultato. E questo è il commento a caldo di Fontanini, dalle pagine del Messaggero Veneto invece vi leggiamo della felicità di Marchiolo, una giornata bellissima per me, per la mia squadra e soprattutto per la città. Siamo consapevoli di essere stati determinanti in questo successo replicato il risultato del primo turno, virtuoso l'accordo con De Toni e qui appunto proprio De Toni con Marchiolo che festeggiano la vittoria, viene riepilogato nella pagina successiva quello che sarà tutto il Consiglio Comunale, con un po' nomi noti e non del nuovo allestimento, tra cui ci sono chiaramente Venanzi, Marchiolo e tanti altri che abbiamo nominato nel corso della nostra rassegna stampa. Ci spostiamo velocemente sulle altre prime pagine regionali, il Messaggero Veneto di Pordenone che parla del liceo Gregoletti, vandalismi a scuola contro i bagni unisex, cartelli adesivi affissi da gruppi studenteschi di estrema destra dopo la scelta di fare appunto bagni unisex nel liceo pordenonese. C'è poi il presidente Biden incantato dal mosaico spilimberghese, questa notizia sicuramente può far molto piacere la bellezza dell'arte, è sempre da sottolineare. Il piccolo di Trieste che parla invece del cambiamento, così cambieranno i 99 chioschi e i mercati triestini, il Comune prepara le nuove regole in vista della gara, chi sparirà, chi no, priorità sempre a prodotti tipici e biologici, si legge sul piccolo di Trieste e poi la fotonotizia con gli sposi di Aprile, mentre poi in taglio alto viene ricordata la questione nei migranti, sia con le parole di Mattarella che con i movimenti della Meloni e con il centro-sinistra che strappa Udine al centro-destra, De Toni, sindaco, abbiamo fatto un cospicuo approfondimento sulla questione. Il piccolo di Gorizia invece, andiamo ancora a leggere i titoli principali. Casa Mazzoli libera dopo 16 anni, bando a settembre, rimossi i ponteggi, l'impalcatura che la ingabbiava è ormai fuori norma, ricavati bene 19 appartamenti. Questa, per quanto riguarda il Comune di Monfalcone, nella fotonotizia si parla di Gorizia, nuova linea alla Coveme, mentre è il titolo scelto dalla fotonotizia del piccolo di Gorizia, dove tra l'altro chiudiamo ridando risalto alla notizia, anche qui con De Toni, sindaco, chiaramente una notizia che viene ripresa in spalla da tutti le prime pagine dei quotidiani regionali. A Udine è stato il grande approfondimento. Ci spostiamo poi anche sulle prime pagine dello sport, perché dicevamo, oggi è una giornata pazzesca, c'è di tutto di più, c'è un turno di campionato che si è concluso da poco, possiamo anche riepilogare con l'aiuto della regia i risultati in grafica, perché mancava l'ultimo risultato, è stato un pareggio, Fiorentina-Atalanta 1-1, Mele nel primo tempo, rigore di Cabral nella ripresa per una classifica che vede l'Atalanta ancora un po' arrancare, rimane sesta a 49 punti, guadagna un punto sulla Juventus, Fiorentina che resta lì a 42, a tre lunghezze da l'Udinese che dopo la sconfitta 3-0 contro la Roma resta 39 per ora, scivolata nella parte destra, l'obiettivo è riprendere quella sinistra in un prossimo turno che sarà difficilissimo, sembra paradossale, contro la Cremonese, penultima forza del campionato ma comunque molto molto in forma, però perché è importante la giornata di oggi? Perché c'è Napoli-Milan, avremo la prima semifinalista italiana certa che uscirà tra Napoli e Milan, poi speriamo anche che l'Inter non faccia disastri al ritorno e ci regali una semifinale tutta di Serie A. Ritorno quarti di Champions alle ore 21, la puntata semifinale Coppa Mia, Spalletti chiede la rimonta a Osimen, finalmente recuperato, Pioli con un gol in più e Leao, prepariamoci alla notte. Più lunga dal 10 di Diego a Van Basten, tre preghiere ed eroi da mito, vengono ricordate nella prima pagina della Gazzetta, al Maradona, sarà comunque qualcosa di storico, assolutamente sì. Siamo d'accordo con Luigi Garlando. L'Inter ti fa il derby, in attesa del Benfica sogna l'Euro rivincita. Chissà, insomma, questo sarebbe da chiedere, certo che Napoli quest'anno ha dimostrato di essere più forte, ma il derby è sempre pericoloso. Juve all'attacco del meno 15, ma c'è l'ipotesi riduzione per quanto riguarda la penalizzazione, questo è in casa Juventus, mentre l'ansia di papà immobile giorno e notte con la figlia, la piccola Michele in ospedale, migliora per fortuna. Questi sono aggiornamenti che ci fa piacere leggere. Rigore con la VAR pari della Fiorentina, così all'Atalanta non riesce il salto in alto, Cabral, che si conferma attaccante davvero molto prezioso per le sorti della Fiorentina che sta vivendo un momento magico. Tutto in una notte, Napoli-Milan è la sfida più attesa dell'anno e va ben oltre la Champions con appunto semifinale in palio, Osi e Quara proveranno a ribaltare lo 0-1 toccando un belè, perché Anguista è squalificato, Giroud recupera, non dimentichiamoci che c'è il Real che va a casa del Chelsea con Carlo Ancelotti che punta un'altra semifinale e al Maradona come San Carlo, questo si dice per il Napoli. Zierischi-Diaz è un'avventura per quanto riguarda le chiavi tattiche che potrebbero essere quelle del match tra Napoli e Milan. Il Can e Juve, nessun illecito, lettera agli azionisti, domani si discutono il meno 15 e la curva chiusa. Anno difficile con il club messo a dura prova, ringrazio il consiglio di amministrazione, ha detto Lionel Can, agito in modo responsabile. Nel posticipo intanto con il solito Cabral che frena Gasperini e la sentenza del giovedì porta più bassa, il Grosseto farà giurisprudenza, questa è una notizia molto interessante per un ricorso che può valere una vittoria. A tavolino, Tutto Sport che invece punta come al solito più sulla Juventus, salvate il capitale Vlaovic, questa è la scelta del titolo principale di Tutto Sport. Juve una crisi di gol ma non solo. In taglio alto invece Napoli-Milan, bollente, tifo, duelli, scintille, osimen guida, il sogno rimonta per la semifinale. Spalletti chiama il Maradona alla spinta, daremo tutto per la nostra gente. Pioli, non faremo barricate per difendere l'1-0, l'appuntamento è alle ore 21 su Canale 5. E su Sky, imperdibile, davvero. Bilanci Cairo, poco rosso, 0 granata. Nel frattempo la reggiana di Aimo Diana, ex giocatore del Palermo, lo ricorderete, che ha il toro dentro, a proda in Serie B. Ancora poi moto all'americana, ora show a tutto gas, intervista al guru preso dall'NBA. Ehi, la folle storia anche di San Giovannese Grosseto, se i calciatori scavano perché la traversa è bassa, è quello che vi dicevamo prima, c'è un ricorso in atto. Inter senza futuro oltre la Champions, Rosa Vecchia e secondo Montengaggi Zhang deve rifinanziarsi, i dubbi vanno ben al di là di Inzaghi. Cabral vieta a Gasperini l'aggancio a Inzaghi. Facciamo così, sentiamo anche le reazioni di Fiorentina Atalanta nel nostro mix, delle parole di Gasperini e di Italiano, anche per vederci un po' il gol di ieri sera e poi ci tuffiamo sulle tematiche uvinesi. Sì, però una bella battaglia, quelle partite che bisogna giocare, che è un po' che mancavano. Bravissimi ragazzi come Spirito, come voglia di fare risultato. Anche la reazione successiva al pareggio loro è stata molto buona, molto positiva. Siamo andati anche vicino a vincere, sarebbe stato veramente un grande risultato, però dobbiamo prendere questo punto perché contro un'ottima Fiorentina sta facendo cose importanti. Il fatto di essere davanti per noi è comunque un merito e cercheremo di sfruttare la prossima gara. Per quanto riguarda la crescita è la verità, noi in altri momenti riuscivamo a perdere malamente queste partite, invece adesso con grande maturità sappiamo cosa vuol dire rischiare, meno possibile. Se non si può vincere non si deve perdere e regalare le partite alle squadre avversarie, però per l'amore di gioco, per quello che abbiamo creato, per l'intensità che abbiamo messo. Non dimentichiamoci che noi siamo tornati alle 4 del mattino, abbiamo preparato la partita in un allenamento e continuiamo a proporre secondi tempi con grande intensità, con grande voglia e con grande spirito. Quindi faccio i complimenti ai ragazzi che glielo ho fatti e li ribadisco qua. Soddisfatto italiano che continua questa striscia di risultati utili. Siamo sul Gazzettino per invece l'analisi dell'Udinese. Approccio sbagliato, molli e confusi, il risultato dell'Olimpico è sì troppo pesante, ma la prestazione si è rivelata modesta, non basta il forfè di Beto a giustificare il tutto, ora testa alla Cremonese, dice Guido Gomirato. Per la prima volta in stagione la squadra friulana si ritrova nella parte destra della classifica. Poi per Eira e i maledetti rigori già a Salerno c'era stato un errore nella foto, anche Cristante che il suo rigore l'ha sbagliato, ma per sua fortuna sulla ribattuta. Bove è stato il più lesto di tutti. Un blitz anche sulle questioni bordelonesi, ultimi 90 minuti con tutto in ballo, dal secondo al quinto posto. Sabato alle 17.30 la chiusura della prima parte della stagione con l'Ambinoleff al Tognon. Di Carlo chiede maggiore concretezza, i complimenti di Thomassen non devono bastare ovviamente. Al Pordenone, il gazzettino che si occupa anche di basket, come al solito le due facce della medaglia delle squadre friulane, Old Wild West, stagione nera, carattere gesteco, Finetti non cerca scuse, dobbiamo lavorare in palestra su parecchie cose, coach Pillastrini siamo stati costretti a vincere due volte, mentre Delser ai playoff dopo aver sfiorato il podio sfiderà Broni nella foto la grande festa gesteco e invece Finetti durante un timeout che cerca di tenere sulla squadra impresa che non riuscirà perché è arrivata poi la sconfitta contro Torino. Torniamo sul messaggero veneto della edizione di Udine, anche per vedere come viene trattato il tema udinese. Media punti da salvezza, l'udinese niente di più al momento. Nel ritorno ne ha fatti 11 in altre tante giornate. Dopo la sosta il ritmo è lo stesso, senza Deulofeu la squadra si è andata spegnendo il difetto, la benzina finisce presto. Gaetano D'Agostino, questa è la sua analisi, la squadra vive di accelerazioni, ma se si allunga sono guai, manca chi detta i tempi. Secondo l'analisi dell'ex centrocampista dell'Udinese, se si parla poi di sottil e di un futuro ancora tutto da scrivere, la società deve ancora decidere se confermare il tecnico. Vediamo quali saranno poi le evoluzioni di questa questione. questo è quello che riporta il messaggero Veneto, si occupa poi anche del posticipo con il pari tra Fiorentina e Atalanta, poi ancora Napoli-Milan, Spalletti punta sul Maradona, Pioli sui suoi fedelissimi, ma di questo abbiamo abbondantemente parlato. Anche la presentazione del Torneo delle Nazioni, che scatterà il 25 aprile come di consueto con Italia-Messico e tra l'altro con più di qualche ragazzo bianconero convocato come Pirro, Palma e Marello, non vediamo l'ora davvero di seguirli, Palma che tra l'altro nell'ultima partita dell'Under-15 ha segnato anche il gol decisivo per accedere ai play-off. Si parla di basket anche sul messaggero Veneto, errori da sotto e da tre, a più, cambia registro adesso o mai più? C'è anche la rima, la sconfitta con Torino fa riemergere vecchi problemi, stavolta almeno sotto i tabelloni le cose hanno funzionato, questo si dice nell'analisi sia di cose positive che di cose negative. La settimana di Gaspardo, domenica sarà del match, tra l'altro Gaspardo che sarà il nostro ospite settimanale di Baschettiamo ed è sicuramente un recupero importantissimo. Ci sono invece per quanto riguarda Cividale le parole di Fontanini, il direttore tecnico sulle prossime tre gare, vogliamo tenerci i primi due posti, racconta le emozioni con la mia gesteco, il direttore tecnico con Rota e compagni al lavoro, intanto i tifosi si preparano alla trasferta in quel di Milano. Ecco qui invece il ciclismo, che mancano 40 giorni alla Corsa Rosa, c'è un metro di neve, la protezione civile, al lavoro sulla salita, Giro d'Italia sull'Ussari, obiettivo liberare la strada in sette giorni, attesi i sopralluoghi delle squadre alla fine del mese. Vedremo poi come si svilupperà la questione, si parla anche di Jonathan Milan, giorni decisivi per il debutto Rosa, la Bahrain valuta, il 22enne Buiese attende di sapere se sarà suo l'ultimo degli otto posti nel team. E glielo auguriamo ovviamente al Buiese che ci fa sempre sognare. Qui siamo tornati, non si sa perché, di nuovo nella zona Dettoni. Prima di chiudere spostiamoci anche sul Messaggero Veneto per approfondire ulteriormente le tematiche sul Pordenone. Vediamo, dovrebbero essere qui, appunto, perché vi abbiamo detto di un'ultima giornata molto intensa in cui si deciderà il tutto per tutto. Il Pordenone ora rischia di giocare i play-off da quinto. Scenario da scongiurare. Se perde con l'Albino Leffe può essere superato dal Padova. In quel caso comincerebbe gli spareggi dal primo turno ed è sicuramente qualcosa che renderebbe il cammino molto più difficile. Diciamo che purtroppo la grande occasione di vincere a Venezia, e mettersi comodi. Il Pordenone non l'ha sfruttata. Adesso gli toccherà innanzitutto vincere contro l'Albino Leffe e poi anche perché non sperare in qualche risultato utile dagli altri campi. Abbiamo davvero esaurito tutti i nostri argomenti a disposizione ma dobbiamo ancora farvi vedere quella che è la nostra programmazione del martedì. Approntamento fra poco alle 10 con Magazine. Poi l'informazione alle 15. Vi aspettiamo sui campi di Busevski per pomeriggio calcio. Ancora DG alle 16, poi alle 19 e con lo sport. Le 19 e 15 con la cronaca nella serie TV del martedì sera alle 21 e 15. Mary Higgins Clark, prima del nuovo DG delle 22 e 45. È davvero tutto adesso per la nostra segna stampa. Ma prima di lasciarci, intanto vi auguro una buonissima giornata in nostra compagnia e poi vi lascio alle previsioni del meglio. Le ritrovate amici di TV 12 da Emma Parigi di Trebinete. Una giornata, quella di martedì, con tempo per lo più stabile assolato sul frulli Venezia Giulia. E clima gradevole emite nelle ore pomeridiane, punte massime vicine ai 20-22 gradi. Ora osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra porti e non e udine. Un contesto stabile, asciutto sul territorio, un sole prevalente. Cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime piacevoli vicine ai 20-21 gradi. Temperature minime ancora piuttosto bassine per il periodo, non oltre i 9-10 gradi. Ora osserviamo cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste. Ebbene, analoga situazione. Estesi rasserenamenti sul territorio, qualche nube si innocua di passaggio ma senza effetti. Temperature massime un po' più contenute sul tratto costiero. Per il momento è tutto, maggiori dettagli in merito vi attendono sull'app di Trebi Meteo.